Grazie. 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 Dai, Jordan. Finta dalla parte. Ok. Vai. tienigliela lì quella gamba tienigliela lì piegata così ok, la direzione è quella giusta si, gira, switch se non ci vai tieni le larghe perché se no ti rimane adesso col petto e poi tiriamo via dall'altra parte, Jordan tienilo lì, tienilo lì ok, tienilo lì ora riparta, dai 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 Joe dall'altra parte bravo Joe, distrai Joe, ok vai Joe esci da lì Joe, dai